tante le novità di kawasaki e come 2021 per il nostro brand and breakfast parliamo con riccardo bertaggia capo delle vendite del marketing di kawasaki italia e ci racconterà dell'elettrico ma anche della tecnologia in particolar modo di quella presente nella nuova versi 650 vai riccardo allora intanto grazie di avermi invitato a questo vostro format in secondo luogo ci tenevo sottolineare come per kawasaki sia un grande piacere un onore è una scelta di cuore quella di essere presente ad egma per dare un segnale di ripresa forte non solo al settore in secondo luogo per quanto riguarda il mondo dell'elettrico il nostro presidente ito in una recente conferenza stampa dichiarato che entro il 2025 introdurremo ben 10 nuovi modelli tra ibrido ed elettrico ma lavoreremo anche moltissimo su motorendo termici alimentati attraverso i fuel e idrogeno su cui kawasaki sta sviluppando un know-how decisamente importante in termini invece di novità 2022 ci sono cinque nuovi modellier partiamo da z 900 rs se una moto bellissima un upgrade della classica z 900 rs che in questo caso ha una componentistica di particolare pregio e allo stesso tempo la z 900 che ha avuto la possibilità di ricevere una diciamo una sorellina anch'essa con degli upgrade che appunto la 900 se e che monta un mono ammortizzatore hollins completamente regolabile e delle pinze brembo monoblocco la grande novità di quest'autunno è la z 650 rs una moto che ha riscontrato un grandissimo successo a suo lancio con i media di tutta europa è una moto che dà immediata confidenza e ci permette di aprirci ad un pubblico che fino adesso forse non trovava nel portafoglio prodotto di kawasaki una moto che soddisfasse tutte le esigenze di di stile di facilità di guida e allo stesso tempo una moto che potesse essere anche accessibile nel prezzo abbiamo poi lanciato l'ultima versione diversi 650 come hai giustamente ricordato ha avuto uno step evolutivo in termini tecnologia molto importante in primo luogo l'impatto che si ha alla guida di questa moto è sicuramente di grandissimo livello grazie al tft a colori a cui è possibile connettere il telefono via bluetooth e l'introduzione di un elemento fondamentale per la sicurezza attiva come il traction control unica nella sua fascia di prezzo nella sua gamma da avere entrambi queste features infine la nostra ammiraglia la ninja h2 sx che importeremo per il mercato italiano solo nella versione se con le sospensioni elettroniche basate sull'algoritmo skyhook e che è semplicemente la moto più tecnologica che esiste in questo momento sul mercato motociclistico mondiale unisce a un elevatissimo livello di tecnologia legata alla connettività e la sicurezza attiva con gli aras che includono appunto anche i radar anteriore e posteriore con l'unicità del motore h2 che è compresso e che in questo caso è stato bilanciato per l'utilizzo turistico e sportivo queste le parole dei protagonisti di eicma 2021 se non volete perdervi nessuna delle novità della kermess milanese e le interviste seguiteci sul nostro canale youtube sui nostri canali social ma soprattutto sullo sito www.motorbox.com